Ciao a tutti ragazzi, oggi vorrei spiegarvi qualche trucchetto che potrebbe salvarvi la vita nel caso in cui abbiate una connessione internet veramente lenta e instabile. Se seguirete molto attentamente questa guida e starete attenti a ogni singolo passettino, non dimenticandovi nulla, riuscirete a migliorare notevolmente la vostra navigazione in rete, scaricherete molto più in fretta i vostri file e avrete un computer sperabilmente ottimizzato anche per l'esperienza a lato gaming, riducendo il ping, il lag e tutto ciò che potrebbe compromettere la vostra meravigliosa esperienza di gioco. Io sono Dani, il vostro ingegnere di fiducia e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi siamo tornati con un nuovo episodio di ottimizzazione del nostro computer. Abbiamo già visto sul canale qualche video per eliminare tutti i nostri virus nascosti nei meandri di Windows del nostro computer e anche sul nostro dispositivo Android. Oggi come avete visto andiamo a parlare di connessione. Se sei anche tu interessato a video legati all'ottimizzazione, al miglioramento delle performance e delle prestazioni del tuo computer, ma anche a come rimuovere dei virus, a come installare macchine virtuali e tutto ciò che riguarda il mondo tech, ti ricordo di lasciare un bel like e iscriverti al canale anche perché mancano meno di 3500 persone al raggiungimento del nostro sogno, ovvero i 100.000 iscritti. Se sei soddisfatto di quello che imparerai in questo video e il tuo computer effettivamente migliorerà la propria velocità, allora attiva anche la campanella e lasciami qui sotto un commento con i tuoi risultati del prima e del dopo. Cominciamo a ottimizzare. Allora, la primissima cosa da fare in questi casi, ragazzi, se vogliamo migliorare la velocità della nostra navigazione in rete e ridurre il nostro ping è verificare la presenza dei benedetti aggiornamenti di Windows. Lo so, ragazzi, sono una rottura di scatole, ve lo dico, ve lo ricordo ogni volta, ma gli aggiornamenti di Windows sono fondamentali, non per forza quelli di upgrade di versione, cioè non è che vi sto dicendo passate per forza a Windows 11, se non vi piace Windows 11 rimanete tranquillamente sul 10, ma fate in modo che cliccando in basso a sinistra all'interno degli aggiornamenti la disponibilità mostri un Windows Update con zero aggiornamenti pendenti. Noi clicchiamo sul pulsantino, ecco, guardate, c'erano degli aggiornamenti all'interno di questo computer, quindi forse è meglio che lanciamo un bel update. Aggiornare Windows, ragazzi, vi serve anche per mantenere il vostro computer up to date per essere difesi e protetti contro tutte quante le nuove versioni di malware e di virus che girano all'interno di Internet, quindi mi raccomando, fatemi un favore, fate sempre gli aggiornamenti di Windows. Ottimo, ora che il nostro computer è aggiornato dobbiamo andare a cercare il centro connessione di rete. Andiamo in basso su Windows, andiamo a cercare connessioni di rete, eccolo qua, e vedrete all'interno di questa schermata tutte quante le connessioni con la quale siamo collegati a Internet. Molti di voi si utilizzano Amaci o qualche altro servizio strambo con la quale giocare con i vostri amici in locale, troverete un sacco di icone. Bene, individuate quella che volete modificare e con la quale siete in realtà attualmente connessi ad Internet. In realtà ora io sto utilizzando una macchina virtuale, ma se vi prendo il mio computer principale, vedete che qui c'ho una marea di roba collegata. Ad esempio nel computer main io ho un Intel R211 Gigabit Network Connection. Che cosa vi serve a questa cosa, ragazzi? Vi serve a capire qual è il nome della vostra interfaccia di rete e andare conseguentemente a scaricare i driver aggiornati del dispositivo che utilizzate per collegarvi a Internet. Quindi che cosa facciamo? Ci appuntiamo il nome che sta sotto alla scritta Ethernet Rete e andiamo a cercare il driver aggiornato di quella roba su Internet. Nel nostro caso noi cercheremo Intel Pro 1000 driver Windows 10. Voi nel vostro caso cercherete quello che avete attualmente nel vostro computer. Io qui cerco di navigare un pochettino all'interno del sito. È molto banale solitamente scaricare i driver, sono molto visibili. Andiamo ad esempio qui su come installare manualmente i driver della scheda di rete di Intel in Windows. Clicchiamo qua, andiamo su elenco di driver e software e a questo punto avremo uno strumento di aggiornamento dei driver di Intel direttamente fatto da loro. Noi clicchiamo qui sopra, andiamo a cliccare su scansione di sistema. Guardate un pochettino, qui si è accorto che siamo su una macchina virtuale. Qui ci sono tutti quanti i nostri componenti del computer attualmente in uso o meglio virtualizzati. Nel caso in cui non abbiate degli aggiornamenti vedrete anche voi il messaggio non sono disponibili i driver. Nel caso in cui ci sia qualcosa da aggiornare, allora il nostro fantastico Intel Driver Support Assistant ti farà scaricare questa IntelDriver.exe che è una specie di applicazioncina molto banale che vi consente di analizzare se nel vostro computer ci sono dei driver che devono essere aggiornati. Io in questo caso posso andare a cliccare su ripara perché tanto in realtà ho già fatto tutto quello che dovevo fare prima. Abbiamo un'elaborazione da parte del nostro Intel Driver Support Assistant e tutto il resto viene da sé. Passaggio successivo ragazzi, dobbiamo andare a scaricare il TCP Optimizer che adesso vi spiego anche che cosa serve. Prima cerchiamo TCP Optimizer all'interno del nostro fantastico Google e andiamo a cliccare all'interno del sito speedguide.net dove ci sarà il download del TCP Optimizer 4. Lo vedete qui in basso a sinistra. Cliccate sull'icona qui colorata in blu e partirà un download. Lo andiamo a trascinare sul desktop e mi raccomando tasto destro esegui come amministratore. Allora, cosa serve questo tool ragazzi? Questo è un tool che viene utilizzato per andare a modificare le impostazioni di rete della nostra connessione. Che cosa serve? Fondamentalmente vi va a modificare alcuni parametri che sono usati per collegarvi tramite il protocollo TCP che è un protocollo orientato alla connessione senza perdita di pacchetti non vi sto a tediare con la parte teorica e fondamentalmente ci consente, se sappiamo dove mettere le mani, di andare a ottimizzare la nostra connessione su internet e farla andare in maniera più rapida. Quelli che vedete davanti a voi saranno i settaggi di base. Adesso andremo a cliccare assieme sul pulsantino Custom e faremo un po' di modifiche all'interno dei parametri della vostra connessione TCP. La prima cosa da fare, fa molto scienziato Matrix Hacking Style, è prendere questo fantastico slider e portarlo tutto quanto sulla destra. A questo punto verificate che l'MTU sia 1500, va bene come parametro, e ci spostiamo subito all'interno di questa sezione qui sotto. La TCP Windows Auto Tuning deve essere su Normal, la Windows Scaling Euristics va disabilitata, il Congestion Control Provider, ragazzi, va modificato in CTCP e l'RSS barra RSC vanno entrambi abilitati. Lo so, nessuno di voi probabilmente sa quello che sta facendo, ma se passate con il mouse qui sopra, vi viene fuori una piccola guida che vi dà anche una piccola spiegazione teorica dell'elemento che state analizzando. Ad esempio il Congestion Control Provider, che abbiamo modificato prima in CTCP, consente di modificare l'algoritmo con la quale è gestito il controllo di congestione su internet. Questo richiederebbe un pochettino di reti di calcolatori e di telecomunicazioni per darvi un po' l'idea di quello che effettivamente avviene su internet. Ma non voglio tediarvi, per quello magari ci sarà un video appoggiato. Andiamo a modificare il Time to Live a 64 e a questo punto tutta questa sezione dovete verificare che sia disabilitata. Ora seguitemi perché è importante, questo programmino è un pochettino vecchio, applicate le modifiche, ci sarà una lista di roba che lui andrà a fare, date l'ok, adesso con calma diamo il tempo di macinare perché sta lanciando una serie di comandi, andrete a cliccare no perché qui vi chiede di fare il video al computer. Riaviremo il computer alla fine di tutte le ottimizzazioni perché ne faremo altre, quindi clicchiamo no per adesso e andiamo subito a spostarci nella tab Advanced Set. All'interno di questa schermata facciamo queste modifiche e all'interno delle Max Connection andiamo a selezionare le raccomandate, ovvero 10. Max Connection per server va anche lui modificato a 10 che è il parametro raccomandato. Local Priority, ragazzi, andiamo a selezionare il numero 4. Host Priority, andiamo con il numero 5. DNS Priority, andiamo con il numero 6. E NetBT Priority, andiamo con il numero 7. Sì, sembra una cosa divertente, 4, 5, 6, 7, però effettivamente questi sono i parametri da inserire. Verifichiamo che il Max Scene Retransmission sia 2, entrando tutti quanti gli esami di RTT Calculatori che mi entrano in testa, telecomunicazioni che mi colpisce da ogni lato. Verifichiamo che il SAC RTT Resiliency sia disabilitato e andiamo a modificare l'Initial RTO rispettivamente a 2000 e il Minimum RTO possiamo lasciare 300. Type barra Quality of Service. Qui ragazzi pensiamo un bellissimo 0 e Do Not Use NLA, andiamo a selezionare Optimal. Il Network Index va disabilitato, quindi lo togliamo e la responsività del sistema, che è default E20, va settata su Gaming. Anche se non giocate, ragazzi, fregatevene, questo parametro va a 0. Andiamo a modificare il nostro TCP Hack Frequency A1, che vuol dire disabilitato. TCP No Delay, in questo caso lo abilitiamo con uno, ogni tanto l'informatica fa degli strani scherzi. E TCP Dell Actics, qui andiamo a modificarlo e mettiamoci 0. Network Memory Location vanno bene 0 e 1 e Dynamic Port Allocation, qui possiamo mettergli il valore massimo, che mi pare fosse 65500, sì, c'è scritto qua, 34, e TCP Time Delay Wait, facciamo 30. A questo punto applichiamo le modifiche, arriverà la solita lista di roba, diamo l'OK, adesso ci metterà un pochettino a macinare. Vi ricordo che se non siete soddisfatti di queste modifiche, potete tranquillamente ritornare ai default setting, come cliccate sul pallino Windows Default e applicate tutto quanto e riavviate il sistema, sia per questa tab che per quell'altra, molto banalmente. Volete riavviare? No. A questo punto chiudiamo il programma, passiamo alla prossima ottimizzazione e poi andremo a fare uno speed test per vedere se la nostra rete internet va effettivamente bene. Questo passaggio, ragazzi, ve lo faccio vedere all'interno del computer principale, perché richiede di andare a fare qualche modifica che su una macchina virtuale non è presente. Ci portiamo nuovamente nelle connessioni di rete, eccole qui, andiamo a premere con il tasto destro all'interno del nostro elemento con la quale ci colleghiamo a internet e clicchiamo su proprietà. Andiamo all'interno di configura. Configura vi andrà ad aprire questa schermata. Ci spostiamo all'interno della tab avanzate e andiamo a disabilitare tutto ciò che contiene la parola risparmio energetico, power saving, green energy, all'interno di questa lista. Ad esempio, io qui leggo Ethernet a basso consumo energetico. Allora lo andremo a disattivare. Il prossimo step richiede una combinazione di tasti, ovvero Windows più R. Andiamo a digitare gpedit.msc e diamo l'ok. Quella che si aprirà davanti ai nostri occhi è l'editor dei criteri di gruppo locale. In questo caso, ragazzi, dobbiamo verificare che all'interno della configurazione del computer, se qui riesco ad aprirla, entrando all'interno di modelli amministrativi, di rete e di utilità di pianificazione dei pacchetti quality of service, ci sia all'interno di questa impostazione la limita larghezza di banda riservabile. Doppio cliccando su di essa ci si aprirà questa schermata. Noi andiamo ad attivarla e limitare la larghezza di banda allo 0%. La cosa triste, ragazzi, è che questa roba qui, di default, è all'80%. Quindi, se leggete qui, se si disabilita o non si configura questa impostazione, il sistema utilizzerà, il volo è predefinito, dell'80% della vostra connessione. Quindi è molto importante che questo settaggio sia attivo. Applichiamolo, diamo l'ok e a questo punto abbiamo solo l'ultima cosa da fare. Apriamo il nostro strumento preferito, ovvero un terminale, tasto destro, esegui come amministratore e andiamo un pochino a tirare lo sciacquone di quello che è il nostro DNS. Lo resettiamo e lo andiamo ad impostare a una zona più o meno sicura, rapida, stabile, veloce, tutto quello che vi passa per la mente. I comandi da lanciare in ordine sono ipconfigflushdns e lo lanciamo. ipconfig registerdns e lo lanciamo anche questo, configurazione IP di Windows, diamogli il tempo, ci vuole un pochettino. Prossimo ipconfig release ed eccolo qua, queste ve le devo censurare perché c'è un po' di roba che non potete vedere. prossimo ipconfig renew e l'ultimo è netsh winsoc reset. A questo punto ci chiederà di riavviare il computer, abbiamo ancora pendenti le modifiche del nostro TCP optimizer, non riavviamo ancora, chiudiamo il nostro terminale e andiamo a fare un controllino del nostro server DNS. ci spostiamo sempre in connessioni di rete, eccolo qua, andiamo con il nostro tasto destro, andiamo sulle proprietà e questa volta ci spostiamo su protocollo internet versione 4, TCP pv4. clicchiamo su proprietà e ci apparirà questa famosissima finestra, chi di voi non ha mai visto questa finestra nella propria vita? Su via. Cosa dobbiamo fare ragazzi? Dobbiamo andare ad impostare i seguenti indirizzi di server DNS manualmente. Personalmente vi consiglio quello di Google che è l'8.8.8.8.8.8.4.4. Volendo potete fare una prova anche con un altro DNS e vedere quello che vi piace di più in base alla velocità di internet quando andrete a fare lo speed test e fate una prova sia con questo qua di Google che con quest'altro che è l'1.1 non 11, mannaggia 1.1.1 1.0.0.1 Provate questi e utilizzate quello che vi aggarda di più. Io personalmente uso quello di Google perché mi piace e va abbastanza bene anzi va benissimo. Riavviamo finalmente il computer. A questo punto non ci resta che provare il nostro nuovissimo scintillante velocissimo computer con uno speed test che vi faccio vedere anche quanto è rapida la mia connessione del computer. Clicchiamo sul pulsante Go e guardate che figata il nostro nuovo PC scintillante che ovviamente non potrà eccedere la velocità di internet che pagate. Quindi non è che se magicamente voi non pagate come nel mio caso per una connessione molto rapida allora magicamente questo numero vi arriva a 600 megabit per secondo ma spero che le ottimizzazioni che avete visto all'interno di questo video vi possano essere servite per migliorare la vostra situazione. Vi ricordo di lasciare un bel like di iscrivervi al canale e lasciarvi un bel commento con i vostri risultati voglio sapere che connessione avete e ciao! Ciao!